Sandro Cecchi Pavone, nostro presidente onorario in questo momento bellissimo, di festa, non ci lo rovina neanche la pioggia. 60 anni per il San Vito Positano, tu sei qua per Positano, che emozioni, che sensazioni provi? La prima è di grande orgoglio perché due anni fa si poteva interrompere questa storia, ho ritenuto di fare tutto quello che potevo fare perché non si interrompesse quindi sono felice di aver portato la squadra al suo sessantesimo compleanno, tra l'altro a dei livelli straordinari, abbiamo fatto praticamente una promozione ogni anno, siamo a un passo dalla Serie D, ci è mancato veramente niente quest'anno per andare anche in Serie D. Ma soprattutto sono i giovani. Ma la squadra è stata completamente rinnovata per cui il sessantesimo è una sorta di grande ripartenza per ulteriori grandi successi che sono soprattutto i successi di tutta la gioventù di Positano perché grazie anche ai nuovi soci entrati che aiutano i vecchi che non hanno mai mollato abbiamo praticamente lo spazio per fare sport a tutti di qualunque età e di qualunque condizione e questa è la cosa numero uno che viene prima ancora di risultare. E' importante questo per Positano perché lo sport è benessere, sociale e guardate queste ragazze che saranno parte dello spettacolo del San Vito Positano. Grazie Alessandro. Grazie a voi.